Ciao a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un video riassuntivo, andrò a vedere tutte le scarpe e tutti i capi limitati e ricercati. Ci usciranno a novembre, andando in ordine cronologico per giorni. Ovviamente per ogni pezzo che vedrete ci farò un video sul canale al momento che uscirà, guida su come acquistarle, con consigli eccetera. Quindi mi raccomando, se non sei ancora iscritto, iscriviti con la campanellina per non perderti i nuovi video, che poi magari ti accorgi che sono usciti da dieci giorni, ormai il drop è stato fatto e quindi ti perdi tutto. Like al video per supportare sul mio Instagram, quelli che mi seguono lo sanno già, pubblico varie storie dove appunto annuncio prima i video, dico cosa uscirà, come uscirà, e che lo consiglia a quelli che mi seguono con vari sondaggi eccetera. Quindi mi raccomando, seguimi anche su Instagram, sette motivi per seguirmi su Instagram. Luca Cino, trattino basso, trattino basso, reggili. Detto questo possiamo iniziare il video. Ovviamente non tutti i pezzi hanno la certezza di uscita al 100%, ma molto probabilmente saranno quasi tutti esatti. Iniziamo col 4 novembre che vedremo l'uscita delle Nike per Off-White Air Force One in due color, i black e i volt. In teoria era praticamente confermata, solo che ci dovrebbero già essere notizie su ruffle eccetera, invece per ora nada. Però saremo a vedere, magari escono tipo domani in questi giorni qua. Il prezzo sarà di circa di 150 euro e le paia sono poco superiori a 50.000 a testa, quindi comunque sarà un'uscita limitata. Giudizio personale, le nere sono toste toste. Saltiamo all'8 novembre e andiamo su Supreme, perché vedremo l'uscita, come al solito il giovedì alle 12, di Supreme in collaborazione con Levis. Non si sanno bene i pezzi, ma come sappiamo è una collaborazione che, tra virgolette, regala sempre gioie. Quindi preparatevi che poi usciranno dei leaks eccetera, staremo a vedere. Il 9 novembre, che appunto il giorno dopo avremo un doppio drop, quindi un venerdì davvero hot. Avremo il drop online della collaborazione fra Palas e Ralph Lauren. Per delle anticipazioni potete vedere il teaser sul profilo Instagram di Palas, ad esempio c'è della scena con i cavalli eccetera, dovevi far vedere qualche pezzo. I pezzi che usciranno in teoria dovrebbero essere questi qua, però non si è capito bene se usciranno poi altri pezzi eccetera, quindi comunque state connessi, specialmente sul mio Instagram, perché su YouTube non sono sicuro che porterò qualcosa su questo argomento. Comunque staremo a vedere. E sempre appunto il 9 ci sarà il restock delle benedette Easy della 50 Zibra. Dopo il restock delle cream, adesso tocca quello delle Zibra, che sono circa 160.000, quindi ragazzi rispondono già alla domanda, sì sarà facile prenderle. State alle 10 di mattina sul sito Ald, se vedrete che verrete sorteggiati, dato che sono molte. Poi c'è un dubbio fra il 15 novembre e il 22 novembre, in ogni caso usciranno Neki Air Force One, in collaborazione con Comdegastone e Supreme, in colorway appunto black, e questo sinceramente è particolare, ma l'apprezzo, infatti probabilmente proverò ad acquistarle. Anche qua si parla di un pezzo limitato, queste secondo me davvero andranno a ruba. Il 20 novembre c'è un altro ritorno, Kenny West per Adidas, altri Trackpun Scalabasas. Queste due nuove colorway, in giro ce ne sono altre quattro, e tra l'altro le ultime due sono uscite poco tempo fa, e adesso ne hanno sfornate altre due. Anche qua ragazzi sarà EasyCop. Il giorno dopo, quasi confermata al 100%, Neki per Off-White Air Max 90, in due colorway, black e il marroncino chiaro. Anche qua siamo circa sui 150, e sinceramente queste non mi fanno impazzire, ma neanche il primo modello dell'Air Max 90, in collaborazione con Off-White. C'è da vedere un po' dal vivo, questo è il marroncino chiaro, quelle potrebbero essere carine, ma il resto... Altre Easy 350, questa volta V2 e Sesam, le abbiamo il 23 novembre in uscita. Le quantità saranno, ovviamente non è un restock, è un drop normale, quindi comunque saranno limitate, tra virgolette, non sarà troppo difficile, il prezzo sempre 220. Altre, non è che per Off-White ragazzi, sarà difficile che usciranno tutte queste, vedremo quali balzeranno e quali no. E Zoom Fly, in altre due colorway, black e rosa. In commercio sono già tre colorway, dato che sono uscite le due speciali per il football, Mon Amour, e quindi saremo già a cinque modelli di Zoom Fly, in questa collaborazione con Off-White, che sembra non aver fine. Il prezzo anche qua sarà di 170 dollari all'incirca. Saranno limitate, ma non ci sarà una richiesta proprio altissimissima. Stiamo arrivando a fine mese, penultima uscita il 29 novembre, Supreme per The North Face, una collaborazione che va un po' a parti, quindi si vedrà quali pezzi usciranno a dicembre, perché a dicembre in tre ci dovrebbe essere il drop quello grosso, e vedremo quali usciranno invece questo mese qua. Magari uscirà tutto questo mese qua e basta. Quindi state attenti al canale e al mio Instagram. Ultima uscita a fine mese il 30 Easy 500 Self. Seconda colorway delle 500 che mi aggrada, insieme alle blush che appunto ho, invece quelle nere e quelle yellow non mi piacciono assolutamente, fanno abbastanza schifo. E queste ragazzi per ora sono le uscite di novembre, mi raccomando commentate con la vostra uscita preferita cosa ne pensate, quale proverete ad acquistare. Se avete domande ovviamente come al solito nei commenti, Seguitemi su Instagram, like al video se vi è piaciuto, noi ci vediamo al prossimo, quindi bella!